Scusa, stiamo registrando? Dici a me? Sì! Ciao amiche, buonasera, buon pomeriggio, come state? Spero tutto bene, qua stavo giocando con il nastro che usiamo di solito quando mi trucco ma prima di tutto il saluto della nostra dolcissima regista! Ciao a tutti! Amiche ufficiale, sono una seppia, lo ammetto, sono una seppia, ho comprato questi scoccettini super carini, convinta che mi arrivassero, così, e invece no, sono arrivati tanti sì, ma piccini picciò, e ho detto sarà l'affare del secolo, e invece? Lo scotch di Barbie? Sì, vabbè, uguale, più o meno. Pazienza, amiche sono una seppia, ero super super convinta che mi arrivassero grandi così. Allora, lo scotch è partito tutto per un semplice fatto che inizialmente usavo questo, aspettate che prendo qua di lato l'altro, che è qua. Allora, io usavo uno così che è comoda la larghezza, diciamo, è abbastanza comoda anche per fare quello di il make-up carnevale tutto l'anno, ma mi è stato sottratto, me l'ha fregato la regista, l'aiuto regista, l'opinionista, ci hanno fatto dei lavori, ci hanno scoccettato dei cartoni, tipo l'aiuto regista, ci ha fatto una macchina di cartone, ci ha infilato le gambette dentro e è partito, ma con tutto il mio rotolo scoccettato su. Io non me ne sono accorta, amiche, quando l'ho visto lui era super felice, la regista aveva fatto un lavoro di scuola, l'aiuto regista ci aveva fatto pure lui qualcosa, era finito. Allora, io ho recuperato questo, che l'ho letteralmente sottratto, probabilmente al marito timido che l'aveva appoggiato, ma io amiche un pezzetto così mi dura una settimana, perché io ne taglio un pezzettino, no? Però mi è scomodo, perché è lungo così, mi è scomodo, perché è troppo lungo, non va bene, mi è scomoda questa larghezza, poi questa consistenza, non lo so, lo trovo diverso da questo qua, è diverso, mi si attacca troppo e mi stacca anche l'anima quando lo stacco, non va bene, non va bene, e poi è scomodo, questo non va bene. Quindi mi sono ordinata su Amazon al volo uno di questi, perché casualmente ho visto che stavano tipo in super mega offerta, non mi ricordo se l'ho pagato, il prezzo suo sarebbe mi pare 2 euro e 90 circa, e io l'ho trovata a un euro qualcosa, allora ho detto vabbè mi prendo un rotolino nuovo, sperando che dure un po' di più, e mentre ordinavo questo tutto, che mi è capitato, lo vuoi anche Rosa? mi ha detto Amazon, e io così amiche, Rosa? Non ho capito più niente, ho sentito Rosa e non ho capito più nulla, e come dice la mia amica Anna, guarda la dimensione di cammello prima di ordinare, secondo voi l'ho guardata la dimensione del cammello, certo che no, certo che no, infatti, e quindi l'ho ordinata e l'ho pagata, praticamente allora, questi due piccoli cammelli costavano la bellezza di, non ho il coraggio nemmeno di dirlo, tipo 9 euro, infatti, questo 1 euro e questo costo 8 euro e 90, però ho detto vabbè, ma sono due, poi tu quando capisci, quando vedi, senti Rosa, non capisci più niente, infatti, ma poi ho detto, beh ma dai, sono due, è normale, poi è Rosa, normale costa 8 euro e 90, poi quando mi sono arrivati amiche mi sono sentita la seppia, anzi la seppia è molto più intelligente di me, io sono una pietra, non una seppia, sono tonta come una pietra amiche, mi è tonta, quando mi è arrivata, certo pensavo che fossero grandi, sono rimasta di pupuissima, si può dire, di pupuissima, l'ho guardato tipo un paio di minuti così, il dv da Rutasi Barras e l'aiuto il regista mi ha detto, bellino è della Barbie, e io ho fatto, certo, allora non soddisfatta di questa cosa, ci ho riprovato, e ho detto, guardo meglio dimensione di cammello, no, no, non ce la posso fare, non è, è ok, è un po' più grande di questo, costano anche un po' meno perché questa volta se i rotoli 6 euro è già andata meglio, no? Sì. Abbiamo migliorato. Sì, dai. Mi arrendo, non ne compro altri, però questo non lo so se sarà comodo, adesso apriamo tutto, amiche mie, apriamo e capiamo, facciamo un confronto con questo che era comodo, allora, io ho intenzione, vi dico la verità, di mettermi a piangere, no, scherzo, allora, praticamente ne tagliamo un pezzettino, dunque, sarà questo è molto molto comodo perché è molto morbido, è molto più comodo di questo per fare i make up quelli di carnevale se dobbiamo fare la mascherina, no, perché è morbido, è sottile, quindi va meglio. E cosa volevo dirvi? Ah sì, che in quello della mattina io, allora, praticamente lo piego così, però questo è corto, non facciamo niente, ce ne serve un altro pezzo, aspettate, vi faccio vedere perché forse di corsa la mattina non si capisce cosa sto facendo, io ne metto due pezzettini così, e li taglio, ma non so se si era capito, l'ondeggio, guarda se con te forse riesco a far capire sta cosa, gli do la forma, non sono attaccati, sono tutti e due le schiene, li appoggio e faccio un po' di curva e poi faccio così, un po' di onda, la forma, sì, poi questo va ben più, praticamente abbiamo quelli per domani mattina, così, sono pressoché uguali, no, le codine, eh, ma sono arrivata a 43 anni che dovevo dargli anche la forma, li metto laterali e hanno la forma giusta, infatti li vendono con la forma, no, dritti così, ten, sono più carini con un po' di ondulatura, esce, vedi, mi esce anche meglio ondulato giù, ondulati uguali, e io poi posso anche praticamente fare il getto, la pennellata di eyeliner senza manco guardare, perché praticamente faccio così, zoom, e me lo fa giusto, insomma, più o meno, no, non è male quello di stamattina, vero? No, no, è divenuto bene, mi sembra. Eh, infatti sono soddisfatta e anche se sono mezzo addormentata, a mica viene bene, viene bene, bene, comunque, voglio provare a fare con voi un'altra cosa, ho intenzione di prendere, allora, qualcosa di rotondo, adesso non ce l'ho, però proprio rotondo giusto, tipo bicchiere, anche con tipo questo, che segue la forma più o meno del mio occhio, attaccarlo sotto, poi lo scotch, lo taglio, taglio lo scotch così, no, lo disegno con una penna, tondo, e ne faccio due uguali per tutti e due gli occhi, lo incollo così, e poi faccio il nero, che non riesco mai a sfumarlo bene, l'ombretto con la mattina, ah, quello sotto, sì, per farmi la sfumatura quella fatta bene, bene, bene sotto, però mi devo concentrare, devo pensare prima, quindi, no, domani di sicuro. Devo riordinare le idee? Sì, devo riordinare le idee, perché non sono convinta della cosa, lo apriamo perché è anche sigillato questo, vado, questo è il sigillé, allora, e dall'altra, così, abbiamo rimosso la sigillatura, penso, no, che fosse sigillato, sì, 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 è la sigillato, chissà perché li sigillano, allora, questo, perché dici tanto rimandano via Amazon, ma sì, allora, praticamente, questo è un kit per laminazione di ciglia, ma noi non ce ne frega nulla, non ci serve lo scotch, praticamente, allora, qua ci sono tre cose per quello che costa di più, scusate il rumore della plastica, ci sono questi che apriamo, e sono i rotolini, e sono traspiranti, diceva, quindi troppo togo, forse, ecco perché costava a te, sì, infatti, e, ok, sembrano i cerotti, e dovrebbe essere traspirante, attaccano bene, non strappano l'anima, e quindi, in teoria, questo lo prendo laterale, gli do, perché di così è troppo corto, no? Quindi lo modello laterale, poi lo attacco, e dovrebbe essere molto togo, e trasparente un po', neanche tanto rosa, direi, no? No, quasi niente. Poi c'era questo aggeggio, che a noi forse non ci serve, ma qualcosa faremo, che è per attaccare le ciglia, no? Perché praticamente, se ho capito bene, attaccano lo scotch, e poi ci attaccano con la colla sullo scotch, le ciglia per laminarle, perché c'è anche la colla, vedi? Ah, ma dai. Sì, monouso, tipo, no? Sono tutte colle qua dentro, ci sono piccole colle monouso, dice, alza, e sotto c'è la colla. Quindi, forse noi comunque non lo buttiamo, possiamo usarlo per attaccare strass. Ok. Sì, brillocchi in faccia, qua non si butta niente, amiche, non si butta niente, si usa tutto, tra l'altro mi piace un sacco che sia monouso, e mi piace il fatto che sia una pallina di l'albero di Natale. Vero? Mi fa molto, Merry Christmas, Happy New Year. No, dai, adesso stiamo andando verso la bella stagione. Ma cosa arriva? Il freddo e la neve sulle cime delle dolomiti, amiche, tra oggi e domani e dopodomani hanno messo freddo polare, abbassamento di 15 gradi e neve sulle cime. Quindi, Merry Christmas, Happy New Year, e la regista non è contenta per un motivo che diremo tra un paio di giorni. Non lo possiamo dire prima perché sarà una sorpresa. Forse, una sorpresina, diciamo così, una sorpresina. Quindi avevamo la gegetto, che non sappiamo a cosa serve, di Barbie, ha un po' un mini pettinino per attaccare la ciglia. Io amiche non mi devo laminare niente perché ho il terrore e mi si stacchino. Tra l'altro vi devo dire la sincera verità. Lo sapete che io ho il terrore delle unghie, no? Di andare a farmi le unghie. Manco sotto tortura le vado a fare le unghie perché ho il terrore che me le bucchino. E tra l'altro posso dirvi la verità. Allora, io mi considero tanto cozza in faccia, ma posso dirlo che sono belle le mie unghie, mi piacciono. Sono belle. Io se c'è una parte che trovo graziosa sono le mie unghie. Infatti c'è una cozza amiche che veramente c'è. Chi posso dire? Non lo so. Mariangela Fantozzi, che era un uomo che interpretava una ragazzina brutta. Voleva sì così la storia. E io non lo so che voi siete buonissime e mi dite sempre che non sono brutta, che sono carina, che sono bella. Ma io amiche lo specchio ce l'ha, mi vedo senza trucco e mi spavento da sola la mattina. Sì, le unghie. Però anche le unghie senza smalto non mi piacciono. Però smaltate mi piacciono. Allora no, non torna però alla storia. Perché anche la mia faccia truccata mi piace abbastanza. È struccata che non mi piace. Però anche le mie unghie mi fanno veramente brutte. Ma è la forma bella cosa c'entra se è quello smalto senza? È come il trucco però in faccia. Col colore mi piacciono tantissimo, anche se sono corte. Sì, bene, ma col make-up cambia abbastanza. Mi cambia la fisionomia, anche l'abbè di cosa sto dicendo. Lo so, lo so. Ma no, non intendevo quello. Intendo che ti vedi più colorata e fa completamente un altro effetto. Anche lo sguardo, cioè col mascara, cambia completamente. Ma nelle unghie cosa cambia? Cioè, il colore? Lo sguardo. Delle unghie, ok. Una volta mi sono disegnata gli occhi nelle unghie. Sì, va bene. E li ho fatto così alle mie amiche. Così, guardate. Avevo disegnato tutti gli occhietti e poi li ho fatto così. Vi guardo. E tra l'altro poi mi sono presa perché poi col tempo sono diventata pigra. Non ho più voglia di disegnarmi. Mi sono presa gli stickers che li abbiamo utilizzati assieme con gli occhi. Ogni tanto me li attacco da qualche parte. Devo riprendere e attaccarmi gli stickers. Però anche là li devo organizzare bene perché ne ho tantissimi. E c'è un disastro. Non riesco a trovarli nell'organizer perché ho. Ah, dove si trovava? No, è scomodo. Non va bene. Non avevamo appena messi bene. Fanno schifo messi così. Sono scomodissimi. Mi vengono i capelli dritti. Apriamo anche questo così non ci pensiamo più. Io apro tutto. Devo aprire tutto. E devo guardare cosa? Tutto. Tutto. Infatti. Allora. Ah no, ma questo era già così. Eh, eh. Questo all'apertura mica è così. È abbastanza comodo. Ne prendiamo uno. E poi ne abbiamo ancora cinque. Mi piace che ce ne siano tanti così lo uso senza... Io non ho capito il motivo di questo doppio bustino. Che poi dicono di non usare tanta plastica. Eh, boh, infatti. La plastica si poteva evitare. Vediamo. Allora, queste sono meci meci con le mie unghiette. È bello. No? Bello, mi piace. È uguale, mi sa. Ah, è più grosso. Ed è più morbido. E costa meno. E costa meno. È traspirante perché è tutto a poretti. Adesso lo inquadriamo da vicino. La differenza dei tre scotch. ecco. Come faccio? Mi metto come? No, stai giù. Ah, sto giù così? Sì, sì. Questo sembra proprio una garzetta. Questo è un po' più plastichino e questo è di carta. Che dà un sacco fastidio quello di carta, eh, ve lo dico. Sulla faccia dà fastidio. c'era anche quello di Revolution con la scritta Revolution. E stava un rotolino solo. Non mi ricordo se 4 o 5 euro. Allora ho fatto proprio così, amiche. E questa faccia? Eh, perché me la sono puzzata che mi arriverà uno e piccolino così. Allora, non lo so, mi dirà la registra se ordinarlo oppure no. Era un po' indecisa. Intanto ho preso questo. Penso che... Era tutto brandizzato con la scritta Revolution, 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 Revolution. La tentazione c'era, ti dico la sincera verità. Diciamo che io avendo visto la misura di questo, il prezzo e tutto, probabilmente ti avrei detto di no, quindi hai fatto bene a comprarli senza dirmelo, sto appunto. Ma ero curiosa di provarli. Eh, ho capito. Sì, sì. Magari sono la svolta. Come vedete, è pure molto più piccolo. Eh, appunto, per quello dico. Costa di più, è molto più piccolo, boh. Boh. E comunque ho uno scotch, voglio dire, non è che... Eh, lo so, però non è che ci dobbiamo scocciare. Dopo questa freddura. Ok. Ok. Vado letteralmente a nascondermi sotto una pietra. Sotto alle mie sorelle pietre. Oh, no. Eh, sì. No. Allora, quindi niente, sono tonta come una pietra. Sono felice da uno a dieci quanto? Un misero tre. Perché non lo so. Beh, è già qualcosa. È già qualcosa. Beh, sono contenta che almeno sono arrivati rose e non verdi. Beh, ci mancherebbe. Cioè, poteva succedere. A volte lo fammi che... Quante volte abbiamo ordinato cose di un colore e arrivano di un altro? Spesso. Nel mio caso, molto spesso. Eh, quindi, guardate quanta è la differenza. Ci sta dentro. Poca. Poca. Appena appena. Eh, però, alla fine, secondo me, ne sarò felice. So che sarà quella cosa che mi svolta l'esistenza. Perché poi è super morbidino e soprattutto mi chiedo... No, non si può riciclare, come ho fatto quella volta. Si può usare più volte? Essendo un po' plastichino? Secondo me poi non attacca più. Non attacca più, dice la regista. Perché ho mica la faccia la mia, no? Non è che mi schifo di usarla un'altra volta. La faccia è pulita. Se qua comunque è plastificato, lo pulisco un attimo e... Oh, proverai. Proverò, proverò. Forse non ci riuscirò. E sarà la normalità, perché non riuscirci e il fail dietro all'angolo, qua è la normalità. Allora, ho fatto un affare? Assolutamente no. Il tasto ce l'ho? Guarda, ce l'ho qua il tasto. Mi rispondo da sola. Mi do da sola io e alla mia capacità di fare gli ordini. Ok? Che è il voto insufficiente, praticamente. Mi sono autodata un voto insufficiente. Come dice la mia amica, devi guardare quanto misura il cammello prima di ordinarlo. Perché in questo caso la misura è completamente sbagliata. Però, però, se io avessi saputo che in realtà erano così, li avrei ordinati lo stesso? Sì. Allora, tanto vale. Allora, il regista, così, ho tolto questa risata. Ok. Eh sì, perché ero curiosa di provarli. Sono curiosa di provarli. Non vedo l'ora di provarli. E quindi, sì, li avrei ordinati lo stesso, lo ammetto. Sarà più comodo questo, però pazienza. Io lo voglio provare. Sono curiosa. Amiche mie, fatemi sapere se avete mai provato questi scotch, che in realtà sono per la laminazione delle ciglia. Questi. E questo forse è proprio per il make-up. Poi ci sono anche delle cose tipo monouso, che sono già tagliate a ventaglietto. E me ne sono rifiutate perché costavano tantissimo. Preferisco tagliarle io che ci metto due secondi. Al massimo le disegno prima con la penna, ho pensato, no? Sì, beh, in effetti. Abbiamo anche quella guida di plastica, che almeno si rende utile per qualcosa, no? Lo usi tipo come stencil. Sì, sì, secondo me sì. E quindi vediamo un attimo, vediamo... sì. Ah, ecco, anche qua c'è la forma tonda della grandezza giusta dell'occhio, vedi? Cioè, per fare... No? L'ha registrato così. Non è convinta. Più ampio. Un po' più ampio. Forse sì. Eh, mannaggia. Allora bisogna cercare qualcos'altro. Io oggi, amiche, ho un mal di schiena che basta a mezzo. Qua mi fa un male atroce. Non so, ho fatto un movimento sbagliato e ho alzato un secchio di acqua. Ok. Per fare pulizia. E quindi, eh sì, da questa parte mi fa un male atroce. È letteralmente dolorosissimo. E niente, mi tengo sempre le mani così che forse un pochettino mi passa. Adesso vado a sdraiarmi dieci minuti. E non lo so, tu vuoi aggiungere qualcosa? Io ho già detto tutto. Ho già detto tutto. Sono un po' delusa, ma me lo merito, perché non sono stata in grado di capire quando ho ordinato. Però sono lo stesso curiosa. Secondo te ho ordinato una porcheria? Non andranno bene? La regista mi guarda e sghignazza. Boh, non lo so. Al massimo facciamo, non lo so, una garza alla Barbie. Ne ingessiamo un braccio alla Barbie per giocare all'ospedale della Barbie. Ok. Non lo so. Potrebbe essere carino come garza di Barbie. Ma è sicuro il rosa ci sta? Ci sta, ci sta, ma noi vogliamo utilizzarlo nel make-up. E che dire? Seguitemi per altri fallimenti, per altri ordini fallimentari. Non lo so. Le seppie staranno ridendo in mare. Secondo me hanno un maxi schermo e mi guardano e ridono. E seppie. Giusto. Le seppie. Le seppie in mare. E Ariel con l'arriccia spiccia dice, ma perché la guardate e vedete che sbaglia sempre a fare gli ordini? E le seppie invece per solidarietà, no? Per solidarietà. Per solidarietà. E niente amiche mie, così, mi dispiace che ogni tanto sbaglio. Fatemi sapere se voi ne avete i tipi migliori così provo a ordinarli. No? Magari loro me ne consigliano un tipo migliore per provare a fare sta roba qua. Il make-up di... come si chiama? Che non lo so manco dire. Lo scotch laterale che attacco avrà un nome? Io non l'ho mai sentito. Io dico per definire la parte finale del make-up, però non so in realtà come si chiama. Allora io direi che vado a nascondermi sotto una pietra. Vi ringrazio per aver aperto questo video. Ah, è arrivato anche l'aiuto regista, volevi salutare? Sì. Ah, scusami, non ti avevo visto. Ciao. Amiche, stavo proprio salutando. Volevo ringraziarvi per aver aperto questo video. Se vi va, lasciateci un pollicino all'insù così capiremo che questo video vi è piaciuto. Oggi immoji, non lo so, c'è l'immoji della seppia, della pietra, del sasso, oppure del cuoricino rosa o dello scotch? Ci sarà lo scotch? Secondo me non c'è lo scotch. Non penso. Delle lampadine, come idea geniale? Non lo so, stupitemi con un'immoji super simpatica e condividete esternamente con tutte le amiche e gli amici amanti dei fallimenti. I fallimenti. I fallimenti, così possono ridere e gioire dei miei. Ecco. Ok? E anche un'altra cosettina, ma è super veloce. Se non siete iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi perché l'iscrizione è gratuita e come dico sempre, io ci rammancai a tra cosa burro. Come sempre vi mando un bacio grande, grande, grande e ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao amiche, buona serata!